Noi difenderemo l'obiettivo! Conquistiamo subito l'obiettivo! Vedo un assaltatore nemico! Noi difenderemo l'obiettivo! Noi difenderemo l'obiettivo! Occhio! Ho un carro! Noi difenderemo l'obiettivo! Occhi aperti! C'è un assaltatore! Noi difenderemo l'obiettivo! Noi difenderemo l'obiettivo! Visto! Un assaltatore! Quello è un medico, giusto? Visto! Attenzione! Assaltatore nemico! Noi difenderemo! Noi difenderemo l'obiettivo! Ho avuto l'obiettivo, Edward! Visto! Abbiamo preso l'obiettivo! Noi difenderemo l'obiettivo! Ehi! Vedo un assaltatore! Si! Oh! Abbiamo preso l'obiettivo! Quello è l'obiettivo! Dobbiamo conquistarlo! Quello è l'obiettivo! Dobbiamo conquistarlo! Un medico a tiro! LÀ! Mitraglia tencia nemica! Abbiamo preso l'obiettivo, Charlie. Quello è l'obiettivo, dobbiamo conquistarlo! Ecco una cassetta medica. Abbiamo preso l'obiettivo, abbiamo preso l'obiettivo, abbiamo preso l'obiettivo. Non devono conquistare questo obiettivo, difendiamolo! Forza, conquistiamo l'obiettivo! Dobbiamo difendere questo obiettivo, avanti! Carro, attenzione! Posso curare quelle ferite! Ho individuato un'interventa in cima! Non lo so! Non lo so! Non lo so! LÀ! Abbiamo preso l'obiettivo, Charlie! Cagliatrice venita localizzata! Medico nemico individuato! Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Un'obiettivo! We have lost Objective Bato. Oh my God, he can't shut him! Bombardiere localizzato! We have taken Objective Apples. Conquistiamo quell'obiettivo! Come on! We have lost Objective Charlie. 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 We have lost Objective Butter. Conquistiamo quell'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Cozz! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Lo ann sorgen ollie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è stato abbastanza Grazie per la visione! Grazie per la visione! We have lost Objective Butter. We have lost Objective Butter. We have taken Objective Apples. We are losing Objective Freddy. We have lost Objective Charlie. We have lost Objective Freddy. We have lost Objective Freddy. We have lost Objective Objective Charlie. Objective Charlie. La, conquistiamo l'obiettivo! 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 Questa cosa fuori Le, conquistiamo l'obiettivo! La, conquistiamo l'obiettivo! La, conquistiamo l'obiettivo! La, conquistiamo l'obiettivo! Vedo il carro, attenzione! We have lost objective charting. Conquistiamo quell'obiettivo! Vuoi che ti curi? Cassetta medica per te! Posso curare le tue ferite? Assattatore, teniamolo d'acqua! Cassetta medica per te, amico! An enemy Dreadmought has arrived. Forza con la cassetta medica! We have taken objective, George. Un asunto con el enemigo! Le dottor matò uno! Lo che si tratta di riscaldamento, Lo che si tratta di riscaldamento, Un asunto con la città di riscaldamento. Un asunto con i sospitaldamento. Un asunto con i sospitaldamento. Un asunto con i sospitaldamento. Grazie a tutti